Focaccia di primavera. La focaccia di primavera è una ricetta gustosa e veloce da preparare. Si prepara con la farina tipo 0, ricotta, verdure di stagione, sale e olio extravergine di oliva. La ricotta rende la focaccia soffice e umida, regalando un gusto delicato. Per rendere la focaccia ancora più saporita, potete aggiungere pepe, origano o altre spezie a piacere. La focaccia di primavera è una ricetta semplice e gustosa che può essere servita come antipasto, contorno o come base per una pizza. Ingredienti. Farina tipo 0, ricotta, o verdura di stagione, ad esempio pomodori, zucchine, melanzane, sale, olio extravergine di oliva, pepe, origano o altre spezie a piacere. Iniziate a preparare la focaccia di primavera versando la farina tipo 0 in una ciotola. Aggiungete un pizzico di sale e mescolate con un cucchiaio. Aggiungete la ricotta setacciata e lavorate con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete il pepe, l'origano o altre spezie a piacere. Amalgamate bene l'impasto. Stendete la pasta su una teglia, coperta con carta da forno. Utilizzate un mattarello per stenderla in modo uniforme. Cospargete la focaccia con le verdure di stagione, precedentemente sbollentate e tagliate a dadini. Irrorate la focaccia con l'olio extravergine di oliva e infornate in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 20 a 25 minuti. Quando la focaccia di primavera sarà pronta, lasciatela inchiepidire prima di servirla.